La questione dei rifiuti di Managrotta e Monte dell'Ortaccio Il libro si chiama Roma la guerra dei rifiuti, è un mio secondo manoscritto, il primo l'ho scritto insieme alla giornalista Paola Alaggia e si intitola con le mani nella monnezza dove abbiamo fatto un po' la storia di quella che è stata per tanti anni la discarica di Managrotta quindi abbiamo messo sotto la lente di ingrandimento tutte le mancanze delle amministrazioni sia comunali che regionali che si sono succedute negli ultimi 15-20 anni questo secondo libro Roma la guerra dei rifiuti invece analizza gli ultimi due anni parte dalla riapertura della procedura di infrazione su Managrotta e quindi racconta della ricerca della nuova discarica per chiudere quella degli Magliocerroni in questo periodo c'è stata una vera e propria guerra, lo dice il titolo, c'è stata una guerra per accaparrarsi il ricco business che c'è dietro lo smaltimento da una parte, almeno per quanto riguarda il periodo che è stato governato dall'ex commissario Giuseppe Pecoraro da una parte c'era la regione Lazio e il comune di Roma che volevano una loro discarica e dall'altra c'è il padrone di Managrotta che gestisce da oltre 30 anni l'invaso più grande d'Europa questa guerra è finita nel momento in cui è intervenuto il governo Monti con le dimissioni di Pecoraro e da allora con la nomina di Sottile si sta cercando un armistizio tra la parte pubblica e la parte privata per trovare un nuovo invaso e per gestirlo e quindi per accaparrarsi il business che c'è dietro ai rifiuti di Roma la vera questione è una, la vera questione è che tutta questa battaglia che tanti territori hanno vissuto sulla propria pelle è avvenuta al di fuori delle norme e delle leggi perché dico questo? Perché una discarica così come vorrebbe l'Europa ma anche la legislazione italiana dovrebbe essere residuale, cioè solo poche tonnellate di rifiuti dovrebbero andare a finire negli invasi invece a Roma ma anche nel Lazio la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti va a finire in discarica e questo è un comportamento illegale faccio un esempio a Roma si producono ogni anno circa 1.800.000 tonnellate di rifiuti circa il 70-80% di questi rifiuti vanno a finire nella discarica dei malgrotto con un aggravante non da poco conto che praticamente non vengono neanche trattati che vuol dire questo? Che vengono presi dai cassonetti e vengono così come sono buttati all'interno della discarica questo che cosa comporta? Comporta che c'è un inquinamento perché il rifiuto non trattato produce percolato produce odori nauseabondi e produce gas nocipi è per questo che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione che rischia di far pagare agli italiani multe salatissime perché è dal 1999 che esiste una direttiva che vieta il conferimento di rifiuti non trattati questa direttiva a Roma non è stata mai rispettata attraverso deroghe, e questa è la parolina magica che ha inguaiato questa città per quanto riguarda i rifiuti attraverso deroghe noi abbiamo potuto continuare a buttare tal quale inquinando una zona di Roma che è quella della Valle Careria ora siamo arrivati a un punto limite perché la Commissione europea ha detto finalmente basta però abbiamo anche tanti problemi che non sono mai stati risolti in questi anni perché la raccolta differenziata è al palo faccio solo un esempio le normative e le leggi dicono che entro il 2012, cioè ieri dovevamo stare al 65% oggi invece stiamo per Roma intorno al 30% e per il Lazio al di sotto del 20% non abbiamo un funzionamento reale degli impianti che dovrebbero trattare i rifiuti e poi abbiamo un caos totale perché le leggi in materia non sono mai state rispettate e quindi giustamente i cittadini non si fidano di chi dovrebbe far rispettare queste leggi e quindi ogni zona di Roma o al di fuori di Roma che viene segnalata come possibile di scarica non fa altro che suscitare le rivolte dei cittadini del luogo però in questo caso candidata come zona è stata appunto di Monti dell'Ortaccio che sta a poche centinaia di metri dalla vecchia discarica di Malagrotta peraltro zona che è già gravata da una raffineria insomma da un punto di vista ambientale è già stata abbastanza offesa ovviamente le comunità di abitanti che stanno sopra verrebbero in qualche modo a subire un'ulteriore offesa anche alla loro salute un attacco anche alla loro salute ecco ricordiamo a chi ci vede, a chi ci ascolta che nella Valle Careria non esiste solo la discarica più grande all'Europa c'è un inceneritore, ci sono due impianti di trattamento meccanico e biologico c'è una raffineria, c'è un inceneritore per i fiuti ospedalieri c'è un deposito dei carburanti ci sono diverse cave, quindi è una zona fortemente antropizzata per lo più nel 2012 ci sono usciti due studi scientifici quindi non fatti da ambientalisti senza se e senza ma due studi fatti dall'ISPRA uno dall'ISPRA che certifica che quella zona è altamente inquinata e un altro studio, un'analisi epidemiologica dell'ASL Roma E che certifica anche in questo caso che in quella zona di Roma nel quadrante Ovest si muore con una percentuale maggiore rispetto ad altre zone di Roma ora accanirsi in quella zona è qualcosa di scandaloso anche perché quella zona andrebbe bonificata perché Malagrotta non esiste da 5 anni, da 10 anni, da 15 anni esiste da circa 37 anni e come dice il proprietario Mario Cerroni all'interno di quella discarica sono stati smaltiti oltre 40 milioni di tonnellate di rifiuti con l'aggravante come ho detto prima che non sono rifiuti trattati ma sono rifiuti tal quale quindi ancora insistere su quella zona è un qualcosa veramente di scandaloso tutti hanno in mente l'ilva di Taranto e tutto quello che è successo ma c'è anche una parte di Roma che è inquinata, infetta che andrebbe bonificata invece noi continuiamo a voler insistere a mettere delle discariche lì poi il discorso è molto più ampio nel senso che una maxidiscarica non è più accettabile qui non si fa demagogia qui si chiede semplicemente il rispetto delle leggi quindi della normativa la normativa dice riduzione dei rifiuti, riciclo, recupero di materia, recupero di energia e solo alla fine smaltimento noi chiediamo quello, basta deroghe, basta proroghe di Malagrotta ma è rispetto della leggi e un'ultima cosa io so che tu in qualche modo hai collaborato anche con i consiglieri regionali che sono stati Rosso di Vita e Rocco Belardo da parte delle forze politiche che costituivano questo Consiglio regionale ci sono stati qualcuno che si è reso un po' più sensibile a questa vicenda o sono stati tutti complici anche perché poi adesso ci saranno poi delle elezioni sono tutti quanti allo sbando e quindi per il futuro a chi queste persone si possono rivolgere? grazie della bella domanda anche perché mi dà modo di fare un po' di chiarezza nel senso che io ho partecipato a molte manifestazioni di comitati cittadini che protestavano contro la discarica non solo a Monti dell'Ortaccio ma anche a Riano anche a Corcolle e anche in altri posti io ho visto con i miei occhi bandiere di vari partiti partecipare a queste manifestazioni quelle stesse forze politiche che hanno creato il disastro perché Malagrotta come ho detto prima non esiste da due anni quindi la colpa non è solo della Polverini o di Alemanno ma esiste da tantissimi anni e quindi tutte quelle forze politiche che hanno governato in questo lungo periodo o la Regione Lazio o il Comune di Roma e mi riferisco a giunte di centrodestra e giunte di centrosinistra hanno chi più chi meno la loro colpa purtroppo questa verità perché io sfido chiunque a dire il contrario questa verità non è di dominio pubblico tutti si occupano della questione Malagrotta specialmente sotto campagna elettorale figuriamoci tutti sono ipersensibili a questa questione peccato che quando passano dall'opposizione alla maggioranza non fanno altro che dare continuità a quello che è il disastro della gestione dei rifiuti a Roma ringraziamo Massimilio Iervolino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti